Da dieci anni perlustrano le colline attorno al capoluogo per approfondire quanto accadde in occasione dello sbarco alleato a Salerno. Sono i membri dell'associazione Salerno 1943, nata nel 2007, grazie ad un gruppo di amici appassionati di storia locale che da allora sono impegnati in uno studio, in una ricerca continua, per far conoscere anche alle giovani generazioni gli episodi tragici degli anni 40 che furono determinanti per l'esito del secondo conflitto mondiale. Un lavoro che ora riceverà un importante riconoscimento, grazie alla decisione del Ministero della Difesa inglese di celebrare solenni funerali di Stato per i soldati britannici ritrovati dall'associazione nel 2014 su una collina tra le frazioni di Capezzano e Coperchia, due soldati caduti durante la battaglia di Salerno. Uno di loro è stato riconosciuto grazie alla comparazione del DNA, un caporale del terzo battaglione del Coldstream Wars, Ronald George Blackham, che ora riceverà una degna sepoltura alla presenza dei familiari. Giovedì mattina alle 11, con la partecipazione anche dell'ambasciatore inglese e i rappresentanti dell'esercito britannico, al cimitero di Bellizzi ci saranno anche la sorella e un nipote. I funerali di tre soldati, due trovati dall'associazione. Abbiamo ricongiunto una famiglia dopo 73 anni di tempo. Quello che colpisce c'è molta più attenzione a quegli episodi, a quei fatti storici, oltre oceano comunque in Gran Bretagna, che in Italia. Certo, è anche vero che l'Italia la guerra l'ha persa, quindi è evidente che chi l'ha vinta abbia più a cuore le vittime. Però per noi sono tutti uguali, nel senso che abbiamo trovato anche in giugno un tedesco, ci sono otto i soldati che fino ad oggi abbiamo trovato. C'è ancora tanto da trovare? C'è ancora tanto perché a Salerno, dopo lo sbarco, si consumarono tante battaglie, a differenza dello sbarco in Normandia. Nello sbarco a Salerno le truppe tedesche si fortificarono nell'entroterra, quindi abbiamo più battaglie, singole battaglie, e più morti, insomma, nell'entroterra.